per me? sì, per te! Ughetta? sì, Ughetta, la bambola buona, Ughetta ti cerca e se l'abbracci ti abbraccia perché vuole stare sempre con te. è proprio speciale la mia Ughetta. avere Ughetta è semplice, basta essere buone, scrivere a Babbo Natale e portare la letterina al più vicino negozio di giocattoli. Ughetta è un prodotto Litarli.